Il road show di Vinitaly fatto a Panca Montalcino, un'occasione per illustrare nel dettaglio al consorzio del Brunello e a tutti i produttori il progetto del padiglione concepito per rappresentare e raccontare la storia ai vini d'Italia, ambasciatori indiscusso del Made in Italy nel mondo. Vino e testo Vitaly, il nome del padiglione del vino, è quello che dovrebbe rappresentare tutto quanto riguarda il mondo del vino a una platea di circa 20 milioni di visitatori. Siamo nel crocevia dell'Expo, l'incrocio fra il Cardo e il Decumano, quindi un momento di massimo passaggio per accedere poi al padiglione Italia. Come abbiamo strutturato la presenza del vino all'Expo considerando che andiamo a parlare a un pubblico con un target non ben definito e quindi anche chi non ha mai visto il vino non l'ha mai assaggiato in vita sua. Quindi sarà una parte diciamo più generale, più emozionale, un welcome to wine, così l'abbiamo definita, con un discorso legato a dare in poco tempo perché poi lo spazio è poco e anche il percorso è abbastanza breve al piano inferiore. In sette minuti dobbiamo trasmettere quello che è l'immagine del vino. Ecco quindi che faremo ricorso alla multimedialità, quindi grandi immagini con la storia del vino, della vite, i territori, le città d'arte e tutto quello che rappresenta per noi il vino e che vogliamo trasmettere al pubblico di visitatori, specialmente esteri. Poi sempre nell'ambito multimediale ci sarà un discorso legato all'olfatto perché quello è quello che accende la memoria con tutte le essenze, gli odori del vino. A seguire con una scala veramente scenografica, con dei grappoli enormi, porterà il piano superiore dove il senso principio sarà il gusto. Ecco quindi in esposizione mille etichette, mille vini per rappresentare l'Italia enoica e quindi una mega degustazione per lasciare un ricordo ben tangibile di quello che rappresenta il vino in Italia e nel mondo. Multimedialità, esperienze sensoriali e degustazioni per la rappresentazione democratica di tutti i produttori grandi e piccoli di Brunello di Montalcino che contribuiscono alla ricchezza e all'unicità di questo vino che è Expo, vuole andare preparato, tanto che sta pensando a un progetto basato proprio sulla valorizzazione del vino e del territorio. Il consorzio del Brunello sta lavorando e si sta predisponendo per una valorizzazione durante l'Expo 2015 per aprire nuovi mercati, per collaborare con realtà nuove e appunto riteniamo l'Expo un momento importante anch'esso per il Brunello di Montalcino. Un vino conosciuto da tutti come uno dei principi rappresentativi della regione toscana, una regione cartolina per tutti i turisti e quindi speriamo che l'Expo, oltre a quello che può essere il padiglione vino, quindi la conoscenza, l'ingresso, la storia del vino italiano, quindi tutta la rappresentazione, essere anche un filo conduttore per portarli in questi paesaggi fantastici, per visitare le cantine nel Montalcino, per visitare la vita, per accogliere la passione e l'amore con cui queste cantine producono il loro vino.